salve a tutti ragiosi oggi voglio farvi vedere come realizzo questi bellissimi sandali vi dico cosa ci occorre tre colori diversi di cotone il beige e il verde per quanto riguarda il fucsia potete farlo anche rosso giallo perché questi sono dei tulipani dei fiori dopo di che ci occorrono dei marker un ago per lana l'uncinetto e delle forbici quindi andiamo ad iniziare il lavoro iniziamo a fare le suole ne dobbiamo fare due quindi una già l'ho fatta adesso vi faccio vedere come fare l'altra avviamo 15 catenelle saltiamo una catenella nella seconda iniziamo a fare nove punti bassi finiti i nove punti bassi facciamo quattro mezzi punti alti finiti quattro mezzi punti alti nell'ultima catenella facciamo sette mezzi punti alti tutti nella stessa catenella finiti sette mezzi punti alti entriamo nel punto opposto del lavoro fatto prima e facciamo tutti nella stessa catenella facciamo quattro mezzi punti alti finiti quattro mezzi punti alti continuiamo a fare otto punti bassi finiti gli otto punti bassi nell'ultima catenella facciamo tre punti bassi assieme quindi chiudiamo nel primo punto basso che abbiamo fatto con un punto bassissimo quindi adesso facciamo due catenelle nello stesso punto dove abbiamo fatto la catenella facciamo due punti alti quindi continuiamo con 13 punti alti finiti 13 punti alti facciamo due punti alti nello stesso seme quindi uno e due di nuovo due punti alti nello stesso seme questo lo ripetiamo per sei volte per un risultato di 12 punti alti quindi abbiamo finito anche gli aumenti che sono due punti alti per ogni seme per sei volte per un totale di 12 punti alti 2 4 6 8 10 12 adesso continuiamo con 12 punti alti ognuno nel proprio seme finiti 12 punti alti finiti 12 punti alti sono rimasti tre semi quindi facciamo due punti alti per ogni seme per tre volte per un totale di sei punti alti e andiamo a chiudere nel primo punto alto con un punto bassissimo adesso facciamo l'ultimo giro facciamo due catenelle nello stesso seme della catenella facciamo un punto alto dopo di che nell'altro seme facciamo due punti alti assieme e continuo con 13 punti alti ognuno nel proprio seme finiti 13 punti alti facciamo un aumento quindi due punti alti nello stesso seme uno solo quindi continuiamo così a partire dai due punti alti assieme per sei volte abbiamo finito anche questi aumenti e contiamo due punti alti assieme uno solo due assieme uno solo per sei volte quindi uno due tre quattro cinque e sei continuiamo con 12 punti alti ognuno nel proprio seme finiti 12 punti alti facciamo di nuovo l'aumento e quindi facciamo due punti alti nello stesso seme uno da solo due punti alti nello stesso seme uno da solo questo per quattro volte quindi abbiamo finito anche questi aumenti e abbiamo fatto due punti alti nello stesso seme uno da solo per quattro volte quindi contiamo e sono uno due tre quattro dopo di che andiamo a chiudere nel primo punto alto che abbiamo fatto e chiudiamo così tagliamo il filo e quindi la suola è finita ne dobbiamo fare due uguali passiamo a fare la parte superiore della scarpetta ci serve ancora il colore beige faccio 17 catenelle quindi ho finito di fare le 17 catenelle ne faccio un'altra dopodiché salto la prima catenella nella seconda inizio a fare punti alti quindi così per tutta la fila quindi abbiamo fatto tutta la fila di punti bassi nell'ultimo vado a chiudere col filo verde quindi questo lo possiamo tagliare dopodiché giro il lavoro faccio tre catenelle tiriamo i fili salto il punto della catenella più il primo punto sottostante in quell'accanto faccio un punto alto una catenella nello stesso seme faccio un altro punto alto faccio una catenella salto uno due punti nel terzo faccio un punto alto una catenella nello stesso punto un punto alto una catenella salto due punti nel terzo un punto alto faccio una catenella faccio una catenella nello stesso punto un punto alto e continuiamo così fino alla fine salto un punto solo e lavoro il punto alto nell'ultimo punto però cambio il colore del cotone e lo vado a chiudere col fucsia in questo caso voi potete fare qualsiasi altro colore quindi tagliamo il filo verde e continuiamo il lavoro col filo fucsia quindi giro il lavoro tiriamo i fili faccio quattro catenelle uno due tre quattro dopodiché facciamo cinque punti alti all'interno dei due punti lavorati assieme quindi uno due tre quattro e cinque a questo punto tiriamo un po' il filo entriamo l'uncinetto nel primo punto alto che abbiamo fatto prendo il filo questo filo non lo dobbiamo prendere quindi prendo solo questo lo esco così questo è il primo fiore dopodiché facciamo due catenelle e di nuovo all'interno dei due punti alti lavorati assieme facciamo cinque punti alti quindi facciamo bene attenzione a fare il fiore per bene quindi lasciamo un po' entriamo l'uncinetto nel primo punto alto che abbiamo fatto dopodiché prendiamo il filo e chiudiamo e un altro fiore è fatto quindi continuiamo così ok quindi continuiamo facendo due catenelle entriamo dove abbiamo fatto i due punti alti assieme facciamo cinque punti alti quindi lasciamo il filo entriamo nel primo punto alto che abbiamo fatto prendo il filo e chiudo ecco qua quindi due catenelle nei due punti alti lavorati assieme facciamo cinque punti alti finiti finiti cinque punti alti lascio il filo entro l'uncinetto nel primo punto alto che ho fatto riprendo il filo e chiudo molto semplicemente quindi abbiamo finito di fare i fiori adesso faccio due catenelle nella terza catenella iniziale faccio un punto alto dopodiché chiudo e taglio il filo quindi i fiori sono fatti adesso riprendo il codone beige nella terza catenella entro l'uncinetto faccio una catenella entro e faccio un punto basso dopodiché faccio un altro punto basso subito dopo entro qua e faccio un altro punto basso nello spazio faccio un punto basso un punto basso lo faccio all'inizio quindi entro punto basso prima e dopo il fiore praticamente qua faccio un altro punto basso uno al centro e quindi di nuovo uno all'inizio del fiore un punto basso subito dopo il fiore un altro punto basso uno al centro quindi uno all'inizio del fiore entro punto basso l'altro subito dopo facciamo un altro punto basso e al centro quindi così continuiamo dentro la catenella e nel punto alto sottostante facciamo l'ultimo punto basso in totale dobbiamo avere 17 punti bassi quindi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove cinque 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 ok quindi adesso giro il lavoro faccio una catenella nel primissimo punto basso faccio un punto basso dopodiché faccio tutta la fila di punti bassi alla fine li contiamo devono risultare 17 punti bassi quindi ho finito questa fila di punti bassi adesso di nuovo giro il lavoro una catenella nel primissimo punto faccio un punto basso e facciamo quest'altra fila tutta di punti bassi devono risultare 17 punti bassi in tutto questa è l'ultima fila quindi faccio l'ultimo punto basso nell'ultimo punto dopodiché dobbiamo fare tutto il bordino e facciamo così dove abbiamo fatto l'ultimo punto basso ne facciamo un altro dopodiché sia da questo lato che da quest'altro lato dobbiamo ottenere otto punti bassi quindi 1 2 3 4 5 7 e quindi abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 e 8 allora giusto quindi dobbiamo avere 8 punti bassi dopo di che non abbiamo fatto l'ultimo punto basso ne facciamo un altro nello stesso seme e quindi qua dobbiamo fare per ogni punto sottostante un punto basso praticamente risulteranno 17 punti bassi mentre lavoro nascondo anche i fili quindi ho finito quest'altro 17 punti bassi adesso dove abbiamo fatto l'ultimo punto basso ne facciamo un altro nello stesso punto appunto dopodiché dobbiamo ricavare 8 punti bassi anche da questo lato da dove abbiamo fatto il punto basso dell'angolo contiamo 1 2 3 4 5 6 7 e 8 quindi ne dobbiamo avere 8 di qua e 8 di qua devono essere uguali i lati dopodiché chiudiamo e tagliamo quindi anche il lato superiore del sandalo è pronto ho ripreso il cotone fucsia per fare il tallone abbiamo 18 catenelle dopo aver fatto 18 catenelle ne facciamo un'altra dopodiché lasciamo la prima catenella partendo dalla seconda facciamo tutta la fila di punti bassi quindi ho finito la prima fila di punti bassi adesso giro il lavoro faccio una catenella nel primo punto lavoro un punto basso così per tutta la fila devono risultare sempre 18 punti bassi e quindi continuiamo così per 7 file quindi ho finito le 7 file di punti bassi adesso giro il lavoro faccio 2 catenelle nel primissimo punto faccio un mezzo punto alto una catenella lascio un punto in quello accanto faccio un mezzo punto alto e un altro accanto dopodiché faccio una catenella lascio un punto nell'altro faccio un mezzo punto alto uno e un altro accanto due una catenella lascio un punto nell'altro faccio un mezzo punto alto uno e ancora un altro due una catenella lascio un punto nell'ultimo faccio un mezzo punto alto dopo di che chiudo così abbiamo finito anche il pezzo del tallone adesso abbiamo tutti i pezzi andiamo a cucire adesso andiamo a nascondere i fili delle suole questa è una nascondiamo anche l'altro adesso cuciamo le suole assieme al tallone quindi facciamo così pieghiamo al centro prendiamo i marker qua abbiamo fatto 18 punti quindi qua dobbiamo avere 18 punti 9 da un lato 9 dall'altro lato quindi contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 nel nono punto mettiamo marker dopodiché giriamo e contiamo altri 9 punti da questo lato 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 quindi questo è il centro la stessa cosa facciamo con l'altra suola dobbiamo cucire dal lato del rovescio quindi facciamo così andiamo a cucire il tallone quindi prendiamo il cotone beige facciamo così dobbiamo entrare l'uncinetto nel punto prima per il marker quindi 1 e 2 dopodiché entriamo il filo togliamo il marker quindi adesso prendiamo il pezzo del tallone entriamo nel punto dove c'era il marker entriamo nel primo punto della catenella del tallone e nel punto dell'altra suola quindi chiudiamo così passiamo attraverso le suole e il tallone e adesso di nuovo entriamo nel punto della suola poi nel secondo punto del tallone e nell'altro punto dell'altra suola quindi facciamo così entriamo anche nella suola entriamo così e facciamo un punto bassissimo e quindi continuiamo così un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, quindi il tallone già l'abbiamo cucito. Adesso continuiamo prendendo un punto di una suola, un punto dall'altro lato della suola e facciamo punti bassissimi. Dobbiamo fare 6 punti. Due, tre, quattro, cinque e sei. Dopodiché andiamo a prendere il lato superiore del sandalino. Quindi facciamo così. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi entriamo nel punto della suola in uno e nell'altro. E quindi chiudiamo col punto bassissimo e facciamo così, per 8 punti. Quindi nel lato superiore del sandalo, nella prima suola e nella seconda suola. Quindi così, 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 così. E chiudiamo tutto col punto bassissimo. Quindi facciamo anche l'ultimo. Adesso dobbiamo fare un'altra cosa. Dobbiamo lasciare 6 punti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E qua mettiamo il marker. Da questo lato. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Da questo lato. Nel settimo punto mettiamo il marker. Da dove abbiamo il marker dobbiamo contare 8 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi da qua dobbiamo iniziare a cucire la suola. Praticamente questa dobbiamo cucirla così. E adesso continuiamo a lavorare le due suole. Prendiamo da un lato e dall'altro della suola. Così. fin quando arriviamo al marker. Ok, adesso siamo arrivati al marker. Possiamo toglierlo. Anche questi. E adesso di nuovo prendiamo il lato superiore del sandalo. E facciamo così. Entriamo l'uncinetto. Entriamo nella prima suola. Nella suola di sotto. Così. Così. E chiudiamo con un punto bassissimo. Quindi per ogni punto entriamo l'uncinetto. Nella suola. e nell'altra suola. Usciamo e chiudiamo. Entriamo. E chiudiamo con un punto bassissimo. Quindi entriamo qua. Finito di cucire il lato superiore del sandalo, continuiamo a fare i sei punti che avevamo lasciato. Solo le suole in uno. Entriamo l'uncinetto in uno e nell'altro. Quindi chiudiamo. Tagliamo. Ecco che il sandalo è finito. Avete visto? Bellissimo. Adesso andiamo a nascondere tutti i fili. Iniziamo da questo. iniziamo la parte. Questo possiamo tagliarlo direttamente, questi pure. Ok, rigiriamo. Taglio ed ecco qua. Adesso dobbiamo fare il laccetto. Ok, il sandalino è fatto, per concludere dobbiamo fare il laccetto come dicevo prima, quindi facciamo 100 catenelle. Quindi ho fatto le 100 catenelle, tiro il filo, taglio, anche l'accetto è pronto. Nascondiamo il filo. Taglio. Ecco, sono. Potete volendo tagliarlo solo un pezzettino qua e lasciarlo così. Anzi, diciamo che faccio così, dai. Taglio così. Quindi adesso il laccetto è fatto, prendiamo il nostro sandalino e lo facciamo così. Dal primo buco entro e così per tutti i fori, uno sì e uno no. Anche nell'ultimo. Ok. Messe il piede della neonata poi prendono forma, quindi facciamo un fiocchetto. Adesso i miei sandalini sono pronti. Al prossimo lavoro. Ciao. Ecco, ciao. h